Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele a questo nuovo appuntamento Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria, in scala 1 a 8, uscita numero 16. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo la prima pagina dei servizi e numeri utili. Questo andremo poi a vederlo bene nel dettaglio dopo, anche le varie fasi del montaggio, quindi questo poi sarà il risultato che otterremo alla fine. Ecco, mi interessava farvi vedere e darvi la possibilità di leggere a quelli che non hanno fatto questa collezione, quelli che sono i contenuti di queste poche righe, ma sempre molto interessanti. volevo dire una cosa alla Centauria, che sarebbe il caso, visto quello che paghiamo anche i pezzi, il primo fascicolo non ha detto niente, il secondo non ha detto niente, guardate, sono tutti bucati e non è neanche bello. questo, non so se si riesce a vedere, magari usare un metodo meno invasivo per i nostri fascicoli, visto che poi li terremo nel raccoglitore, non sarebbe una cosa tanto sbagliata, secondo me. bene, andiamo a prendere il telaio, lo mettiamo qui, andiamo a prendere i pezzi contenuti all'interno, eccoli qua, vediamo subito, questa è la traversa anteriore del telaio, metallo, copertura superiore destra e sinistra, plastica, coperture anteriori, plastica, queste sono le coperture anteriori e inferiori, mentre quelle di prima sono queste qui. va bene, comunque ragazzi, sono tutte coperture queste, a parte la traversa. e poi abbiamo tre serie di viti, cm, ho cercato di mettere l'immagine più a fuoco, cp e ap, quindi queste due con la p finale vanno avvitate nella plastica e quindi non useremo nessun tipo di lubrificante, le cm, m vuol dire metallo, pi, plastica, nelle viti cm, se volete potete usare un lubrificante, grasso, olio, va bene, qualsiasi cosa, io lo userò per crearmi i filetti. bene, andiamo a vedere il primo passaggio, prendiamo il nostro telaio, passiamo un po' di più questo, così, andiamo a metterlo come è in foto, quindi, allora, una, e così, ci arriviamo, eccolo qua, perfetto, andiamo a prendere le due coperture, non vi potete sbagliare, basta vedere l'inclinazione che avete qui, sul metallo, che deve corrispondere all'inclinazione, alla linea obliqua che avete su questo pezzo di plastica, anche se comunque sono contrassegnate con la lettera L ed R, sinistra, R, destra. andiamo a mettere la R qui io adesso, ragazzi, metterò i pezzi, ma non li inserisco fino in fondo, vi dico il perché, perché, se vi ricordate, nel filmato precedente, avevo fatto notare che il mio telaio era piegato qua, e infatti, non so se si nota, aspettate, ecco qua, guardate, ha una crepa nel metallo, può succedere, per carità, chiederemo la sostituzione, ci verrà data, aspettate, ecco, vedete, il metallo è crepato, ecco perché all'inizio ho detto mi sembro un po' piegato, quindi ecco, vi volevo soltanto dire che mi verrà poi spedito il telaio e per non diventare matto poi andare a levare tutti i pezzi che vanno adesso ad essere inseriti, li metterò solo così, quindi vi faccio vedere il montaggio, ma non andrò a premere i pezzi, così sarà più facile andarli a toglierli quando mi arriverà il telaio nuovo. Poi andiamo a vedere l'altro passaggio, sempre con il telaio, no, 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 sempre con il telaio così, no, giriamo, ecco qua, perfetto, questa è la posizione corretta, andiamo a prendere questo e questo e andiamo a metterli semplicemente qui, uno e due, anche qui abbiate pazienza ragazzi, ma non faccio nulla per quello che vi ho già spiegato prima, vi faccio solo vedere il montaggio, poi ci dice, poi ci dice di prendere due viti AP, dove ho messo, dove ho messo, eccolo qua, non trovavo più il cacciavite, diamo due viti, giriamo questo al contrario e andiamo a fissarle così, qui io le punto soltanto ok abbiamo fatto anche questo passaggio poi cosa ci dice ci dice di tenere sempre il modello così prendere una e due questa è la R e questa è la L eccola qui e di andarle a posizionare negli spazi dedicati quindi teniamo questo così e io non voglio schiacciare per il motivo che vi ho già detto prima perché ovviamente insieme al telaio non mi verranno dati anche questi particolari quindi cosa sto facendo rischierei poi di non riuscire ad estrarli e danneggiarli a questo punto ci è rimasto soltanto l'ultimo pezzo eccolo qui e andiamo a metterlo qui giriamo il telaio ecco qua perfetto guardiamo il disegno e ci dice di metterlo così con la scanalatura vedete questa che poi sarà il piantone dello sterzo fatemi solo guardare che non commetto stupidaggini perché eccolo qua qua poi ci sarà il piantone dello sterzo quindi questa è la posizione corretta guardiamo allora sì 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 proprio così non vorrei fare la fine che ho fatto dove spiegavo come far funzionare il perno e quella era una cosa molto interessante ma poi dopo aver fatto quattro video ho messo la mola dietro invece che dentro il perno comunque l'importante è che ve ne siate accorti tutti forché Michele è grazie di avermelo fatto notare vi dirò la prima volta quando ho modificato l'ho fatto correttamente mi sono guardato le istruzioni poi invece sono andato a ruota libera anche adesso vedete ho praticamente l'assoluta certezza che va messo così ma sono ancora qui a guardare di non sbagliarmi va correttamente messo così andiamo a mettere due viti cm io mi vado a creare il filetto perché qui andiamo ad avvitare nel metallo bagnerò la vite una sola volta e con la stessa vite mi creo i due filetti è dura non serve arrivare fino in fondo considerate questo spessore ecco qua Paolo ho letto che oltre a questa fai anche la Bugatti vero però conterai di smettere questa collezione mi dispiace ti saluto non ti saluto nel senso che devi andare ti saluto colgo l'occasione appunto per farlo e mi dispiace perché è veramente un ottimo modello guardate con che semplicità e sicurezza si montano le viti una volta che avete creato il filetto ecco qui cosa è rimasto da fare è rimasto da fissare il motore nella sua sede per fissare il motore nella sua sede ci vogliono quattro viti CP prendiamo le viti CP e senza nessun tipo di lubrificante perché andiamo a metterle ad avvitarle nella plastica mi vado a creare i quattro filetti qua sotto guardate sto cercando di mettere l'immagine a fuoco uno due tre e quattro quindi ci vediamo dopo dopo che mi sono creato i quattro filetti prendiamo le viti CP adesso mi cadranno questi pezzi quando andrò a rovesciare il motore vediamo se riesco a serirli appena appena ecco qui beh ovviamente non riesco ad andare giù perché non ho mandato a fondo la plastica perché se lo facessi quando poi mi arriverà il telaio in sostituzione rischio di danneggiare queste plastiche abbiate pazienza fate finta che ho già avvitato le quattro viti il motore poi è montato così allora a questo punto mettiamo via un momento queste quattro viti e può succedere ma nessun problema perché lo sostituiscono quindi va bene si può sbagliare quello che conta è rimediare ed ecco qua andiamo a vedere cosa abbiamo montato fino adesso mi dispiace che in questo video non ho potuto proprio fare un montaggio definitivo però avete capito non mi conviene rischierei poi di chiedere anche la sostituzione di un altro numero allora questo è quello che abbiamo montato fino al numero 16 mi sono girato a leggerlo abbiamo il musetto che non vi dico più niente perché ogni volta che lo guardo sono più che entusiasta sono veramente contento abbiamo il volante che è in metallo questo è tutto verniciato per chi mi vede per la prima volta questo è tutto verniciato abbiamo il gruppo fari secondari con i led inseriti all'interno che grazie a questo cavetto elettrico poi potranno essere alimentati insieme anche ai fari primari un attimo che volevo vedere se riuscivo a farvi vedere il musetto questa opera d'arte perché questa macchina non è che l'hanno chiamata la regina dei rally così tanto per questa è l'unica macchina al mondo che è stata creata per il rally ecco qua spettacolo va bene e carissima centauria mi raccomando va bene che ormai sono tutti preparati i pezzi non è che andate a chiuderli e magari neanche vi vedrete però non è una cosa corretta mettere dei pezzi metallici dentro che vanno a bucare ogni fascicolo perché è il terzo che mi si buca cribbio a me dà fastidio dà fastidio e se io dovessi chiamarvi per dirvi di sostituirmi il numero perché il fascicolo è bucato e mi dà fastidio che si sia bucato cosa mi dovreste dire quindi magari un po' d'attenzione per anche il rispetto di quelli che sono i vostri clienti e che spendono delle cifre per carità non vi regalano nulla perché ci date in cambio il prodotto nulla da dire però mi raccomando eh un po' di riguardo e come si potrebbe dire rispetto verso noi che vuol dire anche farci arrivare le cose il prodotto come deve essere non come ci arriva il telaio non so come si sia fatto a piegare a essere già perché era già piegato voi che mi seguite lo sapete era già piegato nel blister quindi se l'avete visto che era piegato perché lo avete messo e me lo avete spedito eh io questo dico va bene me lo sostituite non so neanche se mi sentiranno mai ragazzi però cosa devo fare non è che posso andare in giro con i manifesti cerco di manifestare qui ok se qualcuno lavorasse in centauria mi farebbe un grande favore perché non è così che si fa l'errore lo possono fare tutti ma si vedeva che era piegato ed era voilà cosa è successo di tutto si vedeva che era piegato ok bastava sostituirlo e non sarebbe successo questo che invece è successo va bene ragazzi un abbraccio a tutti voi grazie del vostro tempo il mio non era uno sfogo ma semplicemente un tra virgolette denunciare perché non solo loro lo fanno non solo loro anche le altre aziende però ecco un denunciare un completamente controllo qualità assente cioè non c'è un controllo qualità tanto se poi i pezzi sono fallati e li sostituiamo no ragazzi dobbiamo fare le email dobbiamo fare le foto dobbiamo attendere il pezzo che torna indietro degli errori possono capitare ma com'è possibile ripeto com'è possibile un telaio piegato e lo avete spedito va bene dai mi raccomando ragazzi io continuo a dirvi al di là di questo che non c'entra niente che sono ben contento di quest'auto perché io la amo la amo perché le vedevo in valle d'Aosta da ferrato che venivano preparate nel 74 al 75 ce n'erano due che giravano in una strada che si chiama il tesolin va bene forse vi ho già salutato lo rifarò di nuovo grazie ragazzi un abbraccio a voi a tutti i vostri cari più cari ci vediamo al prossimo video mi raccomando se avete piacere iscrivetevi al canale attivate la campanella e sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato date un'occhiata anche alla playlist che ci sono altre auto e delle armature e anche altre cose di un altro genere date un'occhiata ciao ragazzi